Passi carrabili. Allora, questi benedetti passi carrabili a raso, io non so se voi siete a conoscenza, tutti i comuni, la provincia, fa pagare fior di soldi per i passi carrabili. C'è il cartello e bisogna pagare la tassa. Adesso la legge cosa dice? Anche la Cassazione per l'ennesima volta ha ripetuto che dove è a raso, cioè non c'è taglio di marciapiede, non ci sono listoni, parla la Cassazione, delimitativi o altre opere, non esiste occupazione di suolo pubblico, quindi non esiste il passo carabile da pagare, è improprio. Eppure tutti i comuni continuano a fare pagare anche dove sono a raso. In che modo allora hanno trovato l'escamotage, i comuni e non solo? Hanno stabilito che dove ci sono bisogna mettere l'apposito segnale, articolo 22 del codice della strada. Adesso però stiamo attenti che proprio quest'articolo dice che dove esiste un passo carraio, deve esistere il cartello da pagare, ma dove questi a raso non sono passi carrabili. Quindi legalmente non c'è l'obbligo di pagare. Se i cittadini fossero più informati, più determinati, forse il 3, il 4, ma non credo si arriva al 10% nelle nostre città di veri e propri passi carraio. E gli altri sono passaggi a raso, non sono passi carraio, sono un'altra cosa. Il codice della strada dice che i passi carraio devono pagare, ma perché un passo sia carraio e non a raso ha bisogno del taglio del marciapiede e altri aspetti. Quindi bisognerebbe un po' svegliarsi, bisognerebbe smetterla di regalare soldi ai comuni ingiustamente. Ecco, un'azione collettiva. Questo è un bell'argomento che potrebbe essere fatta. Anche perché, viste le leggi, verrebbe sempre condannato il comune che fa pagare laddove non è da pagare. Certo che se una persona, di sua spontanea volontà, va, si presenta, chiede, il cartello paga e poi non si può lamentare. Altro è quando il comune impone. C'è una certa differenza. Se uno è lui che l'ha chiesto, vuoi pagare, paga pure. È consentito dare soldi liberamente al comune.